amici di tutto venezia sport e dei fuoricampo buonasera e ben ritrovati con voi davide marchiol per fare appunto in casa venezia alla luce del primo punto conquistato dell'arancia nero verdi in questo campionato di serie a 2024 2025 termina infatti 0 a 0 la gara al franchi contro la fiorentina per un venezia che se sotto certi aspetti continua a denotare delle difficoltà soprattutto là davanti dove l'assenza di poi a palo e comunque l'assenza anche di un secondo magari trequartista un po più qualitativo rispetto a quelli che già in rosa ti ha portato ad avere qualche difficoltà davanti però almeno finalmente dal punto di vista della compattezza e della gestione del pallone abbiamo visto un venezia più attento meno meno ingenuo e che ha evitato gli errori commessi e grossolanamente contro il brescia in coppa italia dove sono stati proprio degli errori concettuali soprattutto nella ripresa e contro la lazio dove degli errori purtroppo individuali ti sono costati i tre gol presi quest'oggi partita appunto magari offensivamente non eccezionale qualcosina di meglio da si poteva fare però devo dire che a livello di spirito di gruppo di difensivi a livello difensivo c'è poco da dire a questi ragazzi che hanno portato a casa un punto molto prezioso perché ottenuto in trasferta contro una squadra che non è proprio in un momento brillantissimo palladino non sta riuscendo a portare i cambiamenti delle novità e a riportare a un certo livello la fiorentina lo si nota perché comunque dopo il pareggio contro la proprio non irreprensibile accademia cusca se arriva il pareggio anche contro noi la fiorentina devo dire che in alcuni punti ha messo in serie difficoltà il venezia che però alla fine tra i errori nella difesa non è mai crollato diversi errori tecnici anche per i viola un buon punto oggettivamente cioè non sto dicendo che il punto arriva per forza solo perché la fiorentina non era al top non erano al top loro e tu hai fatto una grande prestazione e da qui riesci a portare a casa un punto con alcuni paio di occasioni dove forse potevi buttarla anche dentro quindi devo dire che alla fine ripeto il punto me lo porto assolutamente a casa prima di cominciare ovviamente vi ricordo che oltre a me a commentare le pareti del venezia avete anche alessandro catto qui su youtube dovete andare sul suo canale omonimo vi basta di dire alessandro catto sulla barra di ricerca che segue che seguirà anche il vecchio di venezia e che sia anche la fiorentina quindi può darvi anche il punto di vista sui viola che io conosco fino a un certo punto perché li conosco da ha detto ai lavori esterno ecco ovviamente e poi sapete noi fuori campo curiamo realtà meno considerate punto di vista di mass media nazionale come può essere il venezia udinese i punti sulla serie b che riportiamo ogni settimana e palermo poi in live ci riuniamo anche sulle grandi iscrivetevi mi raccomando aiutateci questo nostro sforzo condividete tutto veneziosport.it sito che tratta 24 ore sul 24 del venezia potete citare tutto mezzo sport su google se non l'avete già fatto ricordatevi like al video se siete iscritti ricordatevi comunque di mettervelo e adesso cominciamo con le disquisizioni più tecnico tattiche allora dal punto di vista della formazione iniziale di francesco non sorprende 3421 rientrano izzes e candela che non squalificati quindi io non ne importa altare con izzes a fare da perno centrale della difesa quindi da regista difensivo sverco a sinistra sulle corsie torna candela a destra con sagrado in panchina a sinistra ci va zampano in mezzo a coppiata duncan cofo d'anderson ellerson e ellerson e oristagno dietro l'unica punta git kier piccola parentesi su git kier la gazzetta oggi ha sparato in sassuola aveva chiuso per git kier notizia che ci prende ci ha colto un po di sorprese che non ha trovato particolari riscontri lungo tutto l'arco della giornata poi il mercato è ancora aperto può succedere di tutto possono esserci sorprese ma git kier per ora un elemento considerato ancora importante dal venezia tant'è che comunque preso un giovanissimo raimondo per fare da terza punta e anche oggi parte titolare poi viene cambiato la ripresa perché stava faticando a un tipo di lavoro in fase di pressione di profondità però appunto non è una notizia che per ora ha trovato di scontri detto questo il venezia parte con la giusta autorità nei primi 25 minuti cerca anche spesso più la palla manovrata anziché fare i lancio dei lancioni perché comunque il gioco di francesco lo sappiamo una certa propositività vuole tanti giocatori in avanti ed è un venezia che cerca di farlo senza scoprirsi troppo per non lasciare spazi a una fiorentina che non approccia al meglio la partita e che cresce lungo l'arco dei 45 minuti che nel finale ti creerà anche qualche pericolo l'occasione migliore il venezia c'era al diciannovesimo perché palla duncan andersen al cross ci va alfred izzes da due passi mostruito probabilmente da biragi sparacchi altissimo e in queste partite purtroppo di occasioni spesso nei poche ed è un peccato perché avrebbe suggellato una prima parte di primo tempo molto interessante molto interessante dopo il cooling break in cui la venezia ha gestito bene si è giocata una gara a viso aperto viene fuori la qualità della fiorentina che inizia a schiacciarti un po nella tua area di rigore il venezia inizia ad affidarsi un po di più ai lancioni con duncan che inizia a provarne più di qualcuno ecco lì forse per dire nicolusi caviglia ti aiuterà in questo senso ragazzo che è subentrato poi nella ripresa e che venezia appena prelevato dalla juventus in prestito con obbligo di riscatto condizionato probabilmente dalla salvezza ripresa che parte con un più o meno lo stesso cannovaccio venezia chiuso che cerca soprattutto con la velocità di ribaltare il fronte fiorentina decisamente in pressing ci provano in diversi ci prova richards anche nel traffico trova una bella una bella un bel varco nel primo tempo ci proverà barack ci proverà ken però ora difesa o joronen questo oggi non sempre risposto presente ed è un bel segnale visto che comunque queste prime due partite proprio la concentrazione in difesa era stato un fattore decisivo in negativo nel finale fiorentina che fa un po più di fatica un po più di fatica e visce un po più di fuori il venezia i cambi li ho capiti diciamo che ecco poi il venezia una panchina lunghissima hai provato a mettere pierini per mettere un po più di fantasie lì in mezzo anche per quest'anno probabilmente i 45 minuti non li ha già qualcosa di meglio secondo me e lì davanti qualche idea in più ma ancora tanto nervosismo dato probabilmente da una forma fisica non ancora meglio eccezionale e quindi metterci pierini che poi vabbè pierini lo conosciamo è tanto fumo e poco arrosto spesso oggi è stato questo ha provato a un certo punto una ruleta inciampano sul pallone talvolta per fare le magie finisce con non fare nulla dentro raimondo al posto di di chi è per dare un po più di profondità visto che la gara si stava incanalando in quella direzione con una fiorentina che magari ti lasciava qualche spazio ecco nella profondità è provato a mettere un giocatore un po più rapido e qualche pericolo in più rispetto a di chi è che un centro avanti un po più bloccato forse è ancora non troppo dentro il gioco di di francesco ma perché gli servono dei palloni un po diversi per essere pericoloso al danese e sarà adatto in altre partite probabilmente e sì nella ripresa poi ripeto di venezia che a pochino ha un pallone interessante in aria ci va forse un po poco cattivo finendo col farsi anticipare da ken e questa è un po la sensazione il venezia ha le idee chiare arriva bene gli ultimi 30 metri e poi manca sempre quel quid quell'idea giusta tra volte si cerca un po anche addirittura di strafare zampano in un'azione a spazio e riesce a entrare in area e anziché provare il cross tenta una stanzata dentro poi fa stanzata fuori poi dentro poi fuori angolo manca sempre quella per la personalità per tentare quel qualcosa in attacco che magari tra volte anche semplice per riuscire ad essere un po più ficcanti poi ripeto hai affrontato la fiorentina squadra che lotterà per i tipi verosimilmente un po diversi dal venezia e quindi va bene anche così è una squadra ancora che sta rodando sappiamo che dal mercato arriveranno diversi ragazzi settimana prossima dovrebbe essere la settimana di scinti n e giovanni e giovanni e bua per franco carboni ci siamo lo ha messo lo stesso ragazzo poi franco carbonio è un acquisto che io capisco un po pochino per dire comunque ai zampano stai fatte stai tenendo di geciano apps che oggi stava subentrando poi di fra ha preferito cambiare idea non lo so forse fai un calcolo apps franco carboni sagrado candela zampano jolly che può andare su entrambe le corsie e quindi chiudi così non lo so però francamente ecco se qualcuno vocifra di addio di zampano ragazzi oggi è titolare fascia il capitano al braccio il vice capitano di questa squadra ha già masticato un po di serie a se proprio ci deve essere un sacrificato non credo sarà lui forse è probabile che si cerchi fino all'ultimo una soluzione per apps ma non mi sembra così impossibile che appunto resti resti in cascina resti in rosa scusatemi chiusura per il risorio di caviglia mi è piaciuto mi è piaciuto e anderson può essere sia una soluzione l'ho visto in crescita ecco rispetto a quanto visto magari in alcune frasi della serie b è chiaro che deve essere un'alternativa nicolosi caviglia mi è piaciuto da gestito l'autino con autorità il pallone ancora non conosci i compagni alcuni movimenti ma lo vedi che da del tuo alla sfera per la lotta a salvezza può essere un signor innesto sapevamo che probabilmente sarebbe stato un innesto importante alla fine d'antonelli è riuscito a chiuderlo qui vediamo un po adesso come si andrà di lineare le cose passi avanti passi avanti sono soddisfatto sono contento adesso vediamo nell'esordio al penzo contro il grande ex paolo vanoli come andrà un torino che devo dire tra il 2 a 2 rimonta subito contro il milano san siro e la vittoria spero 2 a 1 contro l'atalanta dico spero perché sto commentando mentre la partita era ancora in corso quindi non vorrei quella del toro lo intendo ecco non ha vinto il toro ecco diciamo che affronti un'altra squadra non proprio semplice in questo momento da prendere e visto che paolo vanoli sappiamo come parte di solito in campionato l'anno scorso abbiamo visto benissimo quindi sarà una partita molto interessante da seguire detto questo e ringrazio per l'attenzione un saluto mi raccomando iscrizione like ci vediamo al prossimo video ciao